La sfida della semifinale play-off scudetto fra Modena e Perugia per ora è in parità 1-1 dopo la vittoria di Modena mercoledì scorso al Palabarton in gara 1 e il successo dei Block Devils domenica al Palapanini in gara 2. La partita sarà trasmessa in diretta su Raysport alle 20.30.